ci siamo abù vai provate questo e le vostre papille gustative canteranno giù le zampe della mia merce ma come osi fatene via brutto simbiotto stifoso da qui che bel colpo abu la colazione è servita bella signora compra un vaso abbiamo i più bevasi d'ottone e d'argento datteri squisiti datteri squisiti e fichi datteri squisiti e pistacchi la signora vuole una collana una bella collana per una bella signora pesce fresco l'ho pescato con le mie mani no grazie non è il caso scusatemi sono davvero desolata signore oh devi essere affamato ecco prendi guarda che devi pagarmela quella mela pagare nessuno ruba dalla mia bancarella vi chiedo scusa signore io non ho nemmeno un soldo vi prego se mi lasciate andare a palazzo mi chiederò al sultano ma tu lo sai qual è la punizione per chi ruba grazie gentile signore meno male che l'avete trovata voi ti ho cercato dappertutto lo sai ma cosa dici tu stai al gioco tu la conosci questa ragazza purtroppo sì è mia sorella eppure un po matta ho detto che conosce il sultano lei crede che lo scimmiotto sia il sultano oh saggio sultano in che modo posso servire una tragedia vero ma non è successo niente su vieni sorellina dobbiamo andare dal dottore salve dottore come state no 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 non quello andiamo sultano ma che cosa succede chi è stato tornate subito qui brutti radroncoli con tutto il dovuto rispetto a vostra potritudine ma non potremmo aspettare che arrivi un vero temporale risparmia il fiato iaco più veloce si o potente malvagio dividetevi sabbie del tempo rivelatemi colui che può avere accesso alla caverna si si eccolo lì il mio diamante allo stato grezzo è quello sarebbe quel bagliaccio l'erae che c'è già mandiamogli le guardie affinché gli consegnino un invito al palazzo che cosa ne dici fantastico se ho Ha 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 ha!